Giunta alla sua quattordicesima edizione, la saga della mozzarella di Borgo Centore anche quest'anno è pronta a mettere in mostra il prodotto DOP della mozzarella campana ed in particolare quella prodotta dal caseificio 3C, partner dell'evento. La manifestazione organizzata dall'associazione Borgo Centore Nuova, coordinata dal presidente Pasquale Di Notte, è entrata nel vivo nella giornata di domenica con la processione in onore della Santa Caterina, protettrice della borgata. Il particolare interesse è stata la deposizione di una corona di alloro presso il distaccamento della polizia presente nel Borgo per ricordare tutti coloro che sono caduti nel dovere e nella lotta per la legalità. Allora Felice Romano, segretario nazionale del SIUP, siamo in un territorio qui a Borgo Centore che ha visto da poco l'inaugurazione di una caserma, quella della polizia di Stato, ce lo dice lei, che importanza può avere sul territorio una caserma così? Ha sostanzialmente due grandi risultati. Il primo che lo Stato c'è è che quando si vuole le cose si possono fare. La seconda, e questo lo voglio ricordare perché nei giorni scorsi c'è stata una grande polemica sotto questo aspetto sull'inchino che alcune processioni hanno fatto all'antistato. Vedere oggi qui a Centore, in un litorale che è un grande patrimonio, una grande risorsa per il sud, vedere che la processione si ferma ad onorare la memoria dei morti e dei caduti della polizia di Stato, io credo che sia la migliore risposta e la più grande spinta a motivare i giovani a ritrovare il senso di essere al servizio comune, perché forse di questo oggi abbiamo bisogno, oltre che di bravi amministratori. La Sagra proseguirà fino al mercoledì 13 agosto, quando sul palco arriveranno direttamente da Made in Sud i doppia coppia, il tutto condito tra divertimento e tanta mozzarella, protagonista dell'evento. Sì, quest'anno abbiamo deciso di fare qualche giorno in più di Sagra, visto che negli anni precedenti abbiamo visto che c'è una certa propensione da parte dei visitatori di questo evento a venire più di qualche giorno, quindi abbiamo deciso di aumentare, di fare rispetto all'anno scorso un giorno in più, due anni fa ne abbiamo fatti quattro, l'anno scorso cinque, quest'anno sei giorni.